Benvenuto alla campagna Pidro Tackles Barriers alla pratica della fisioterapia basata su prove di efficacia. La campagna ti aiuterà ad affrontare le quattro più comuni barriere alla pratica della fisioterapia basata su prove di efficacia. La campagna si è ispirata a una recente revisione sistematica di Matteo Paci e colleghi che hanno studiato quelle che sono le barriere alla pratica della fisioterapia basata su prove di efficacia. La revisione ha incluso 29 studi che riportavano le opinioni di quasi 10.000 fisioterapisti. La mancanza di tempo è stata la barriera più frequentemente riportata ed è stata segnalata dal 53% dei fisioterapisti. Seguivano poi la lingua con il 36%, la mancanza di accessibilità alla letteratura scientifica con il 34% e la carenza di competenze statistiche con il 31%. La campagna approfondirà ciascuna delle quattro più comuni barriere alla pratica della fisioterapia basata su prove di efficacia. Ascolterai i fisioterapisti che hanno incontrato queste barriere e sviluppato strategie per superarle. Imparerai anche di più sui metodi utilizzati per condurre, analizzare, riportare e interpretare gli studi randomizzati controllati e per aiutarti ad affrontare le difficoltà legate alla carenza di competenze statistiche. Ogni mese pubbliceremo suggerimenti su come affrontare una particolare barriera pratica alla fisioterapia basata su prove di efficacia. Incoraggiamo i fisioterapisti di tutto il mondo a lavorare in modo collaborativo per implementare le strategie più rilevanti nella tua pratica. La campagna di sensibilizzazione terminerà presentando alcuni esempi tratti dal mondo reale di come i fisioterapisti superano queste barriere e utilizzano le prove di efficacia per migliorare la pratica clinica e i risultati ottenuti dei pazienti. Questa campagna è supportata da World Physiotherapy e dalle organizzazioni dei fisioterapisti di Australia, Italia, Francia e Paesi Bassi. Unisciti a noi nella campagna Pidero Tackles Barriers alla pratica della fisioterapia basata su prove di efficacia per aiutare ad affrontare le più comuni barriere alla pratica della fisioterapia basata su prove di efficacia. Puoi seguire la campagna sulla pagina web, sul blog o sui social media di Pidero. Grazie per la visione! Grazie per la visione!